Una interrogazione per sollecitare azioni che vadano nella direzione di assicurare una più adeguata copertura del servizio di trasporto pubblico locale nell'area del Vulture Alto Bradano, anticipando o posticipando alcune corse e consentire così ai cittadini della zona di usufruire appieno del servizio. A presentarla il capogruppo di AWSPC Basilicata possibile in consiglio regionale Bocchicchio che evidenzia i disagi che vivono quotidianamente coloro che si spostano da e verso Potenza, Foggia e Bari. Esiste un solo collegamento diretto tra i comuni della zona e i predetti capoluoghi mentre, fa presente il consigliere, gli altri collegamenti sono possibili solo tramite scalo alle stazioni ferroviarie di Meffi e Rioniero Induttore. Inoltre, l'attuale programma di trasporto su gomma offerto dal Codrab non permette ai cittadini, specialmente quelli di Venusa, di raggiungere le stazioni ferroviarie di Rioniero, Atella, Ripacandida o di Meffi con i mezzi pubblici anche se presenti, poiché le coincidenze risultano essere assenti o complicate. Grazie.